nonostante lise meitner fosse colei che di fatto diede involontariamente sia chiaro il là alla corsa agli armamenti atomici grazie alla sua intuizione riguardo l'avvenuta scissione di un atomo di uranio non prese mai parte al progetto manhattan e non perché non fosse stata invitata non avrò niente a che fare con la bomba disse questo nonostante anche lei avesse subito la persecuzione nazista sebbene solo in parte dato che fuggì in svezia prima che fosse tardi diciamo così e per ironia dalla sorte la svezia non gli riconobbe quel premio il nobel che avrebbe meritato e che invece fu dato solo al suo collaboratore han il quale sì come abbiamo visto verificò che i risultati degli esperimenti di fermi erano sbagliati ma allo stesso tempo non capì se non appunto dopo aver parlato con la meitner che aveva avuto davanti agli occhi la fissione nucleare l'altro rifiuto ci fu dal nostro franco rasetti grande fisico e uomo saggio come veniva spesso appellato e gli rifiutò per ragioni morali non così fermi come sappiamo il quale ebbe un ruolo fondamentale nel progetto manhattan e neanche emilio segre di cui parleremo che i suoi esperimenti sulla fissione spontanea di uranio e plutonio diede un impulso decisivo al tipo di bomba che si poteva o non si poteva costruire ma soprattutto colui che non partecipò al progetto di costruzione dell'ordigno nucleare fu il più grande fisico allora vivente l'incarnazione stessa della fisica potremmo dire in qualche modo albert einstein si potrebbe pensare che fu egli che rifiutò di partecipare esattamente come meitner e rossetti ma non fu così possiamo ipotizzare che l'avrebbe fatto ma non ne avremo mai la certezza questo perché nessuno gli chiese di partecipare dimenticanza impossibile problemi di età neanche dato che come avevano fatto tanti altri grandi fisici come borbon newman avrebbe potuto collaborare anche senza trasferirsi stabilmente allo salamos il suo genio sarebbe comunque potuto risultare molto utile nonostante fossero passati più di 35 anni da quella formula che cambiò la storia della fisica formula che risultò fondamentale anche proprio nello sviluppo degli armamenti atomici la famosa è uguale m per c al quadrato eppure fu lui a scrivere a roosevelt fra l'altro per ben tre volte sollecitando l'impegno degli stati uniti alla sperimentazione nucleare a fini bellici contro i nazisti urge però per onor di storia chiarire la reale portata della famosa anzi delle famose lettere di einstein e zillard quest'ultimo fra l'altro fece di tutto senza successo ovviamente per tentare di impedire che l'atomica fosse usata contro i giapponesi la scelta iniziale di roosevelt fu distanziare una cifra abbastanza ridicola in quella che inizialmente gli chiamo commissione per l'uranio solo 6.000 dollari più o meno i corrispondenti di 100.000 dollari attuali questo perché nonostante quello che ancora oggi si racconti e nonostante l'egocentrismo abbastanza mitomane dei grandi fisici del passato e del presente il peso che poteva avere l'opinione della comunità scientifica sulle scelte politiche specialmente sul fronte bellico era relativo roosevelt non avrebbe davvero dato vita al più grande esperimento collettivo della fisica moderna svenando le casse dello stato stiamo parlando di due miliardi di dollari complessivi due miliardi di allora nel progetto Manhattan solo per fiducia approssimativa o generica simpatia nei confronti degli scienziati dei fisici in particolare dunque le famose lettere di cui abbiamo parlato non ebbero in sostanza nessuna conseguenza il presidente americano fu invece convinto a fare questo passo cioè quello di creare il progetto Manhattan dopo che ricevette un documento inglese il rapporto maud questo sì decisivo ad avviare tutto il processo che conosciamo il documento maud era un'accurata analisi del dipartimento di guerra inglese perché gli inglesi stavano già provando le strade per la costruzione di un ordigno nucleare al quale collaborava fra l'altro anche il nipote di lise meitner otto frisch che metteva nero su bianco con conti verificabili alla mano conti che si dimostrano poi sbagliati nella forma ma non nella sostanza la fattibilità di raggiungere la massa critica della fissione in campo bellico cioè bastavano pochi chilogrammi di uranio 235 anziché le tonnellate supposte inizialmente la massa critica infatti è la quantità minima necessaria di materiale fissile sostanzialmente uranio o polonio che permette di innescare la reazione a catena se fossero stati necessari migliaia di chilogrammi di uranio per fabbricare una bomba cosa di cui sostanzialmente tutti all'inizio erano convinti e sarebbe stata totalmente inservibile e inutilizzabile se invece ne fossero bastate poche decine di chilogrammi come il rapporto maud certificava allora sarebbe stata tutta un'altra faccenda non solo per fare quei calcoli gli scienziati inglesi si erano basati sul metodo di separazione degli isotopi dell'uranio un metodo appunto di arricchimento cioè necessario per raggiungere la famosa massa critica inventato da clusius un fisico di in forza all'esercito nazista cioè che era come dire se ci siamo riusciti non inglesi ce la faranno sicuramente anche loro era all'inizio del 1941 quando churchill sottopose il documento all'attenzione di roosevelt in poche settimane il progetto manhattan partì partì davvero ma appunto senza albert einstein dunque perché einstein non fu chiamato anche qui le ragioni furono fondamentalmente politiche prima di tutto einstein era un convinto pacifista il che vuol dire che c'era la possibilità che rifiutasse di partecipare al progetto e questo avrebbe senz'altro creato problemi nel convincere poi almeno una parte degli scienziati che poi in effetti furono coinvolti e poi c'era un altro motivo einstein era troppo noto era troppo famoso era un personaggio pubblico e le direttive soprattutto inizialmente ma anche in seguito erano di un progetto che avrebbe dovuto essere top secret e in parte lo fu dato che lo stesso vicepresidente roosevelt ovvero truman ne era all'oscuro e scoprì tutto solo quando gli succedette alla sua morte dunque einstein non fu invitato per la cronaca fra l'altro mouth stopper military application of uranium detonation ma ci sentiamo al prossimo episodio